Bentornati su MyFootballGersy. Vi mostro questa stupenda maglia dell'Al Nassar per la stagione in corso. Questa è la terza in edizione player. L'edizione player è quella più tecnica dedicata ai tifosi. No, spardon, dedicata ai calciatori. Grazie a tutti. La maglia è stupenda. Fatta benissimo, bellissimo il tessuto. Avevo già visto questa maglia in versione fan o quella che doveva essere in realtà una versione fan, secondo me anche quella era una versione player come questa. Stupenda. Il costo, lo vedete qui sopra, veramente molto molto basso e vantaggioso. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché insieme a questa troverete tantissime altre offerte che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto quello che dovete fare ma ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima. Ciao! 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 Ciao!